salve a tutti ragazzi sono master wall a scarico carico carico come sempre buongiorno a tutti ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale e andiamo avanti con la vera informazione pronti per il nuovo argomento dopo la sigla allora oggi l'argomento è questo un argomento magari anche già trattato ma la parte che sempre interessante poi sapete che qui c'è un turnover continuo di persone che vengono che girano qui nel nostro mondo nel web nei video allora home gym versus palestra cioè home gym e palestra i veri pro e contro di ambedue le scelte guardate che questa è una tematica importante perché il fatto che vi allenate o a casa vostra o in palestra definisce il vostro futuro fisico perché ci sono delle differenze vorrei precisare questo però io sto parlando di chi sceglie deliberatamente di allenarsi non gym pur avendo la possibilità diciamo anche economica di andare in palestra perché è chiaro che se uno può andare in palestra perché proprio non può permettersi l'iscrizione questioni di forza maggiore c'è poco da fare quindi però anche qui poi avrò una cosa avrei una cosa da dirvi su questo ok allora quindi alcuni decidono perché me lo dicono in molti e non è che alcuni decidono di allenarsi a casa e espongono anche delle motivazioni per questa scelta che sono anche logiche sono anche giuste il problema che bisogna vedere se queste considerazioni sono apportano benefici superiori alla scelta di andare in palestra cioè anche qui si tratta del rapporto come dire rischio beneficio allora la prima cosa che dicono che indubbiamente vera è questa che in un gym uno si può allenare negli orari che vuole non c'è problema può allenarsi in qualsiasi momento della giornata questo è molto importante oltretutto è anche una cosa molto rapida cioè non c'è bisogno di cambiarsi da riempire borsoni prendere la macchina andare magari a volta anche lontano e quindi sicuramente sotto questo punto di vista allenarsi in casa è molto comodo ripeto non ci sono problemi di orari ed è una cosa anche molto molto veloce anche quando avete finito siete a casa vostra quindi la doccia potete farvela lì e invece la fate lì voi dovete cambiare vestire tornare qui insomma c'è questo fatto qui indubbiamente per gente che lavora che ha dei turni o che è molto impegnato il fatto di allenarsi a casa negli orari che a lui sono congeniali questo è un lato di forza a favore della on gym va bene ok andiamo avanti altra cosa che spesso mi dicono i sostenitori di questa scelta era seguente non devo fare file per allenarmi perché oggi spesso le palestre specie quelle molto moderne sono molto frequentate specie cento orari per andare a una macchina o una postazione bisogna aspettare quindi anche questa è una cosa che non è scocciante indubbiamente invece a casa uno non ha nessun problema è tutto libero e quindi è anche questo è un altro punto di forza e va bene altra cosa e questo anche molto importante perché qui poi c'è anche qui entra in gioco il fattore psicologico però attenzione sebbene molti vedono questa cosa con un punto di forza io la vedo con un punto di debolezza e vi spiegherò poi perché molti dicono no ma io mi piace le nami da solo senza gente che mi sta a guardare sono più concentrato riesco a rendarmi meglio io da solo mi alleno meglio posso dare il massimo in palestra non lo farei perché starei con gli altri ma che mi guardano mi sento meglio a casa e mi alleno benissimo a casa da solo io dico va bene se tu sei in questa ottica mentale ok diamo atto anche di questo vabbè tralascio risparmio economico nel senso che uno dice veneno a casa non paga il mensile della palestra arrivederci chiaro che allenando via casa dovete fare comunque un minimo di spese iniziali quantomeno per gli attrezzi sufficienti però uno dice una volta che li ho poi mi rimangono per sempre quindi la spesa è finita lì messe in palestra ogni mese si va su con le spese anche questo è vero allora uno dice beh ma i vantaggi sono tanti perché non dovremmo allenarsi a casa adesso veniamo agli svantaggi che a mio avviso ve lo dico subito dal mio punto di vista come dicono molti politici ogni volta che devono dire un'opinione che è contraria a quella corrente in genere fanno un esordio di questo tipo sotto il mio punto di vista come per dire non sono d'accordo su niente però sapete lì bisogna essere sempre corretti allora dal mio punto di vista allenarsi a casa è un fattore molto e ripeto molto molto limitante limitante per il vostro massimo potenziale fisico e di autostima mentale io lo vedo come un grosso limite ragazzi io ho sempre detto e ve lo ripeto quindi a prescindere da chi non può veramente andare in palestra se uno fa una scelta volontaria di allenarsi a casa a mio avviso una scelta che non lo porterà mai a al meglio di se stesso dal punto di vista fisico ripeto anche mentale con autostima intendo allora cominciamo dunque vedete intanto a casa la prima cosa da dire questa da un punto di vista tecnico di allenamento a meno che non avete una palestra come quella che aveva colle ma che aveva una palestra personale che era del tutto uguale alle palestre che c'erano fuori per 22 un capannone enorme dentro c'era tutto era una palestra come le altre quindi a meno che non siete messi così difficilmente in casa potete allenare da punto di vista tecnico come una palestra normale perché vi mancheranno molte macchine che che non avete vi mancheranno molti molti attrezzi e che non avete e questo è un limite ragazzi è un limite c'è poco da dire è vero che alcuni hanno una palestra ben ben messa che qualcuno dice ma sta me posso allenarmi anche con le mws a casa perché ho praticamente tutto poi ad andare a vedere bene non c'è praticamente tutto si hanno delle cose in più rispetto ai manubili ma non è ancora sufficiente comunque chiaro che più cose avete meglio è ma ripeto difficilmente difficilmente tranne i pochi privilegiati potrete avere una palestra che sia davvero attrezzata al meglio potrebbero un gym che sia davvero attrezzata con una palestra fuori e questo è un limite tecnico faccio per dire se non avete la pressa 45 gradi un esempio è un limite non avete i cavi è un limite non è ticas maschina al limite potrei continuare è un limite quindi già questo voglio dire comincio un po a far bar collare qualche certezza no poi andiamo avanti io la col limite più grosso che vedo al di là di questo qui il tecnico che vi ho appena detto è questo anni ben dico un'altra sempre dal punto di vista tecnico è il fatto che non avete un partner uno spotter non dice vabbè ma io so le bar di sicurezza quindi quando faccio panche squat quantomeno non rimango mai sotto e meno male dico io e meno male però anche questo è un limite perché perché comunque sia se avete uno spotter magari il compagno che vi aiuta è importante perché quantomeno vi aiuta magari a fare anche l'ultima ripetizione o il massimale vi da una mano perché se poi voi comunque rimanete se voi rimanete sotto un massimale che sia panco squat attenzione è vero che con le bar di sicurezza vi salvate va bene però voi avete sempre fallito l'alzata e questo dal punto di vista neuromuscolare attiva meccanismi di come dire meccanismi di fallimento adesso il discorso un po complesso ma quando la tensione muscolare troppa si attivano della nella rete muscolare ci sono degli organi dei organelli chiamati organi dei golgi che sono nel muscolo che cosa fanno quando la tensione eccessiva loro si bloccano si fermano come per dire fermiamoci qui perché è troppo rischiamo di rischiamo blocchiamo tutto il muscolo si paralizza si blocca e voi cioè crollate è un meccanismo di difesa però il cervello registra questo meccanismo di difesa del fallimento dell'alzata e se la ricorda il cervello ricorda sempre l'ultima alzata se è fallita avrete un come dire un ricordo negativo di questa cosa rimarrà una traccia negativa e questo vi limiterà la forza è così vi limiterà la forza delle prossime alzate se poi continuate a fallire sarà anche difficile uscirne fuori quindi voglio dire che il fatto di non avere uno spot che vi aiuta esperto però non quelli che si vedono che non sanno fare sarebbe importante e anche questo è un altro limite vabbè ma il vero problema secondo me di allenarsi in un gym che è limitante il vero problema secondo me invece è da un punto di vista mentale e psicologico e qui è qui che vuole arrivare e qui che voglio arrivare e qui che voglio arrivare allora cosa vuol dire io quando mi alleno se mi guardano non mi sento il mio agio cosa vuol dire non ti sento il tuo agio c'è qualcosa che non va qualcuno dice ma è perché sono troppo secco un atto dice ma sono troppo grasso non mi va che mi guardano ho capito non ti va che ti guardano ma tu sei lì per cambiare le cose e in realtà questa cosa qui che vi guardano mentre vi allenate voi dovreste usarla come una un'arma a vostro favore una grande forza motivante proprio perché vi guardano fate vedere la vostra determinazione e pensate quando voi cominciate a migliorare davvero il fisico e cominceranno a guardarvi con un occhio diverso come vi dirò il boh ma il boh ma questo qui però sta migliorando è migliorato cavolo ma però e dove arriverà questo è quello che dovete fare questo che altamente motivati il fatto che venate a casa riguarda nessuno a parte che non interessa a nessuno che voi vi andate a casa perché è inutile se non c'è esposizione al mondo di quello che voi fate del vostro impegno e anche dei vostri risultati guardate che tutto è vano è tutto è vano io ho conosciuto gente che anche ragazzi che seguivo che per queste ragioni qui mentali cosa facevano facevano un lavoro tipo mattina e pomeriggio per dire operaio da qualche parte no benissimo poi la sera si allenavano da soli chiusi in casa ovviamente poi da tardi andavano a letto c'è la giornata era quella alcuni poi manco andavano al mare per dire allora certo punto tutti questi sacrifici questi sforzi per costruire un certo fisico non sono mai in vista di nessuno vabbè però d'estate se sei in maglietta vabbè d'estate se sei in maglietta ma a parte che per essere in maglietta e far figura devi essere veramente imponente comunque se uno magari non va mai al mare per dire o comunque non va mai in palestra non si fa mai vedere il canotto non si fa mai vedere cioè a chi serve sta cosa diciamo mi serve a me stesso perché sto bene con me stesso boh vabbè ok posso capire ma è molto limitante io faccio sempre l'esempio della della supercar c'è gente che magari a lamborghini supercara tiene costantemente in garage al massimo si fa un giro dentro la pista della vita non esce nemmeno fuori per cui dice sì c'ho la ferrari c'ho la lamborghini e chi la vede mai nessuno e allora a cosa serve perché a me fa piacere ho capito ti fa piacere ma su quelle cose che veramente manca l'essenza l'essenza di significato di aver quelle cose se voi lo annullate non mancano più niente e il fisico la stessa cosa quindi il fatto che voi non vi andate in palestra perché non volete farvi vedere questo qui è un vostro limite mentale probabilmente avete avete qualche così dico problema però c'è una mancanza di autostima voi dovreste fare l'esatto opposto andate lì fatevi vedere l'impegno che avete la determinazione fatto che sapete anche allenarvi bene e che migliorerete il fisico cioè quando poi la gente vede che migliorate guardate io vi sono tanti casi potete citare il mio caso di come cambiate il mio fisico nel tempo ma specie all'inizio quando sbagliavo tutto ma guardate che veramente ho visto molti casi dire molti ragazzi uomini scrivono sai master primi palestra mi vergogniamo un po adesso vedo che mi guardano con un occhio diverso io dico perché è perché sono migliorato un più grosso sono un po più definito sono più forte anzi qualcuno mi venga a chiedere però complimenti come mai ma come ti alleni è questo quello che dovete fare la vera motivazione è questa quindi questo a casa non voglio farmi vedere mi vergogno i discorsi sono è invece è gratificante al massimo entusiasmante farsi vedere quando siete anche magari arrivati a un buon livello pompati magri bello no? è che ragazzi il culturismo è questo il culturismo è anche andare in spiaggia e mostrare il fisico e farsi ammirare ma queste sono cose queste sono cose vanese ma il culturismo è anche questo ragazzi il culturismo è autostima di se stessi ma l'autostima di se stessi se non vi esponete mai al mondo è inutile è come la ferrari nel garage che non la fate mai vedere cioè non ha senso a me questa è la mia opinione poi ripeto uno farà quello che vuole nella vita ci mancherebbe io vi dico quello che penso la mia opinione e quindi è già questa cosa qua come vedete i pro di allenarsi a casa cominciano vistosamente a forse sul piatto della bilancia non sono più tanto sufficienti perché qui veramente ci sono motivazioni contro molto forti ok secondo me sono talmente forti cioè sostanzialmente sono due che tecnicamente non potete allenarvi al meglio due non avrete mai una maturazione mentale della vostra autostima proprio per questi complessi che avete queste idee che avete quindi queste due cose qui per me sono talmente forti e potenti che sulla bilancia spostano il peso assolutamente a favore della palestra detto questo perché adesso arrivo anche poi una conclusione anzi prima però vi dico questo dettaglio tecnico io ho detto che posso ovviamente capire chi non può andare in palestra per questioni economiche ok posso anche capire qualcuno che fa orari talmente impossibili che se uno lavora dalla mattina alla sera non è che può andare in palestra all'undici di sera vabbè posso capire comunque sono eventi abbastanza rari poi a volte chissà anche lì si potrebbero trovare delle soluzioni però posso capire caso di forza maggiore però quando qualcuno mi dice ma se non vai di palestra perché magari mensile se non so le quote che sono in giro però possono ci sono delle quote che vanno da palestra presa città città no però io quando qualcuno mi dice sta cosa e poi magari è uno di quelli che dico io è non lo so ma magari uno di quelli che spende soldi cose inutili vizi cose inutili non sto qui a fare l'elenco ma sapete la gente ragazzi quanti soldi inutili spendono non so potete visitarvi videogiochi le bevute al pub non so fumare magari qualcuno si compie spina del sabato sera e faccio per dire la bevuta con gli amici ci sono spese che sono inutili se non peggio non so videogiochi secondo me se uno volesse mantenere un minimo di glussolo per la palestra evitando di sperarli in giro in cose inutili e potrei andare avanti con altri elenchi probabilmente li avrebbe quindi in questo caso è una sua colpa diverso è uno che veramente deve centellinare un euro perché se no non c'è io ok ma guardate che molti dicono che non hanno i soldi per la palestra ma poi per cose in giro inutili o viziose ne spendono tanti quindi vedete che anche qui sono gli abiti firmati un certo vacanza destra e manca cioè a volte la gente dice non ce li ho però poi li spendono per altre cose ecco se la cosa sta così quindi è una colpa loro detto questo se uno comunque si allena a casa o perché non può o perché ha deciso di farlo nonostante io vi ho detto come la penso allora bisogna farlo bene ci vuole un minimo di attrezzatura che sono chiaramente manubri due manubri bilanciere e dischi di ricambio una panca e se possibile due appoggi per mettere bilanciere ecco avendo queste cose qui come dire se vi allenate con logica non a casaccio perché se vi allenate a casaccio anche a casa è tutto inutile come in palestra ma se vi allenate con logica allora quantomeno non arriverete mai al vostro massimo potenziale fisico ma potrete comunque migliorare il vostro fisico questo ci sta e non è poco come fare le cose efficaci allenandosi bene secondo i principi delle MWS che noi abbiamo adattato nell'home gym appunto con un nostro manuale si chiama home gym wallace che è basato su tre livelli diversi dove lì sono tutti i principi delle MWS adattati a quel contesto vi allenate tre volte a settimana con la logica eccetera eccetera ecco l'home gym wallace moltissima gente ma dico moltissima gente si allena con un'efficacia accettabile accettabile in quel contesto dopo di che con cui dice io master si vorrei prendere l'home gym wallace però io ho anche altre macchine come le inseriamo dentro c'è anche altre cose tipo c'ho i cavi non so c'ho leg extension dopo mi contattate e le inseriamo nelle routine sempre con logica quindi se avete qualcosa in più meglio verranno inseriti vi dirò io come verranno inseriti nelle schede che già troverete dentro eccetera eccetera che poi è un manuale che è anche completo integrazione eccetera eccetera quindi se vi andate a casa il consiglio è questo usate l'home gym wallace quantomeno per migliorare fin dove potete farlo in quel contesto ragazzi questo è quello che vi posso dire di più non posso dire o fare aspetto a voi come sempre di fare la scelta migliore per voi stessi ok io vi ringrazio e vi aspetto con noi ah c'è ancora in corso lo sconto 30% su tutto lo store fino a 14 fate voi ma qui veramente abbiamo avuto una valanga di gente che coci con la e fully mesh manuali a destra e manche c'è gente che fa incetta perché insomma non è poco fate voi vi aspettiamo al top un po'